Ah, eccoti qua. Ci chiedevamo dove fossi finita. Ma dov'è Laura? Laura? Laura è stata finalmente dimessa. Ormai le sue cure si erano così ridotte che potrà farle a casa. Ti presento la tua nuova compagna di stanza. Ginevra. Piacere. Piacere è mio, ma Laura non mi ha neanche salutata. Ma il perché di certo non posso saperlo io. Mi sa che è colpa mia. L'ho stenuata con delle confidenze, mi avrò preso per pazza vera. Ma figurati, se fino a pochi giorni fa sembravi un multa. Bene ragazze, chiedo scusa, ma il dovere mi chiama. Conoscetevi meglio. Le medicine di oggi ve le lascio qui. Quindi, mi raccomando, sono sicuro che voi andrete d'amore e d'accordo. Buon a tutti.